Per questo nuovo episodio di Musicista Smart sono veramente molto felice di portarvi una chiacchierata interessantissima e ricca di spunti utili fatta con William Duarte che è una persona fantastica che ha davvero tanto da insegnare quindi vi suggerisco di ascoltare attentamente l'intervista e di prendere nota dei consigli che da William. Io sono Marco Ierpo e questo è Musicista Smart, il format pensato per chi vuole fare della musica qualcosa in più di una passione. Eccoci qui direttamente dai Duarte Studios, come si chiama il tuo altro? Non ha un nome però Duarte Studios mi piace molto. Dai valutalo, valutalo. Ciao William, grazie mille per aver accettato di fare questa chiacchierata con me anche perché ci tenevo a farla con te dato il tema che tratteremo. Sì, grazie a te per l'invito perché mi piace molto come lavori sul Musicista Smart e su offrire anche un qualcosa di valore ai musicisti che scelgono di fare questa cosa come percorso di vita quindi sono molto contento di essere qua. Grazie, grazie mille. Allora guarda, direi di iniziare direttamente diretti. La prima domanda che faccio agli ospiti di solito è appunto presentati, dici ai nostri ascoltatori chi sei, cosa fai e contestualizziamo un attimo. Allora io mi chiamo William Duarte, sono di origine brasiliana ma vivo in Italia dal 2006, quindi mi sento molto italiano insomma. Sono un musicista, nasco come musicista, il mio strumento principale è la chitarra elettrica. Nell'oggi insomma il mio campo di lavoro è la produzione, prevalentemente o quantomeno chiamiamola una macro area del mio lavoro. È la produzione, sia come produttore, sia come arrangiatore, come compositore, come turnista. Nel tempo, rispetto al fatto che il musicista ho anche imparato a suonare altri strumenti, quindi oggi suono anche la tastiera, il basso, canto. Insomma oggi è stata un'esplosione di creatività che poi ha rispeccato anche le cose che volevo fare, quindi le due cose si sono aiutate. E poi c'è l'altra metà del mio lavoro che è l'atto diciamo didattico, quindi dell'insegnamento. Perfetto, cosa insegni? Hai dei temi in particolare che tratti, degli argomenti o un po' di tutto insomma? Sì, ovviamente io sono partito tenendo chitarra, che come dicevo è il mio primo strumento, però ho fatto la scelta consapevole nell'arco dell'ultimo anno circa di creare una direzione di lavoro che sia importata invece con chi è, diciamo, lavorare con chi è già musicista. Questo sia perché ho visto che, diciamo, lavorare con i principianti non era una cosa in cui mi sentivo, di cui mi sentivo particolarmente contento, di cui non mi sentivo più di tanto portato, l'ho fatto come esperienza e poi mi sono reso conto che valeva la pena invece provare a investire su un altro tipo di insegnamento, su un altro tipo di pubblico. Ok. E quindi sto costruendo da un po' di tempo questa parte una direzione proprio di lavorare con i musicisti da quello che ha perso l'ispirazione, no? Oppure si sente arenato, si sente di far sempre la stessa cosa, a quello che vuole andare in argomenti di approfondimento, quindi improvvisazione, armonia, fraseggio, linguaggio musicale, tantissime cose. Soprire nuovi orizzonti, insomma. Esatto, esattamente. Questa è la cosa che più mi piace fare, ma perché poi io sono un grandissimo nerd. E quindi parlare con i musicisti per me è un'altra cosa. Perché sto già parlando con qualcuno che ha già quel fuoco dentro. Sì, sono due tipi di insegnamento completamente diversi, come approccio, come temi che si trattano. Sì, sì, sì. Per me avere questa cosa di parlare con chi ha il fuoco dentro è importante, perché poi è anche più soddisfacente, no? Nel senso che l'allievo poi anche lui spinge a qualche velocità, a volte anche di più ti porta delle cose, quindi è una cosa che mi piace molto. Contemporaneamente a questa che è la mia direzione personale di insegnamento che sto allevando ancora, no? Sto ancora costruendo questa anche direzione, reputazione, no? Pubblico, eh? Certo. Lavoro anche con una scuola online che si chiama Zero Friendly Academy. Parlacena, infatti, perché è un progetto molto interessante. È una scuola online nata su Instagram dal fondatore Andrea Di Giorgio, una bravissima persona, un grandissimo lavoratore del campo della musica e anche del campo non solo della didattica, ma anche della comunicazione della didattica. E quindi mi sono avvicinato a Zero Friendly Academy prevalentemente come fan, perché vedevo, io ovviamente lavorando con produzione, avevo trovato la pagina, facevano dei contenuti estremamente belli, estremamente curati, non banali e presentati in una maniera con grande cura. E quindi mi sono avvicinato all'inizio come fan, ho cominciato a conoscere un po' l'Andrea, a scambiare le idee, a parlare anche del mio lavoro, perché poi mi sono accorto che dall'altra parte c'era una persona, perché anche io lavoro molto con i social media, che aveva quella visione... Preparata anche da quel punto di vista. Sì, ma anche proprio perché aveva la visione, che aveva la voglia di creare un marchio, di comunicare in un certo modo, di distinguersi in questo, e quindi nel tempo mi ho cominciato a parlare, è stato un po' spontaneo all'offrire e valutare di lavorare assieme, e quindi dopo diversi mesi di conversazioni, eccetera, sono stato, diciamo, chiamato a bordo di questa scuola online, e mi occupo lì, mi occupo prevalentemente di argomenti che io adoro, che sono quelli della teoria musicale, più specificamente armonia, composizione, tutte queste cose qua che io adoro e che per me sono una missione, perché mi dispiace moltissimo quanto venga trattata male la teoria musicale, e mi sono reso conto, ho avuto una sorta di risveglio in questi anni, dopo ne parleremo, dopo che ho cominciato a fare questa cosa full time, e mi sono proprio reso conto di quanto io avessi costruito un legame mio con quegli argomenti molto positivi, molto, non so, quasi celebrativo della cosa, proprio felice rispetto a quegli argomenti, e di vedere che invece intorno a me l'idea della teoria musicale è molto diversa, no? Sì, sono come le materie, cioè la teoria musicale è come le materie brutte a scuola, quelle noiose, no? Il latino, la matematica, recentemente guarda, è proprio beccato in pieno perché ho scritto su un post di Zero Friendly che è un po' come la matematica, la parola testuale è, chiedi che la reputazione della teoria musicale, diciamo, scilla tra il astruso, no? Esatto, 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 no? Oppure anche ma chi cazzo me lo fa fare, scusate, non so se può dire il cazzo. Anche questa cosa del ma perché devo fare questa cosa, ma sta roba che mi serve, no? Quindi tutto questo cocktail che sicuramente non aiuta nella reputazione, e a volte è anche la stessa didattica della teoria musicale, non è che si sforzi particolarmente a decostruire questa visione, quindi con Zero Friendly Academy, poiché mi ha raffidato proprio questo ambito, porta avanti la missione invece di, uno, di far capire che la teoria musicale può essere molto bella e sono convinto che chi sta seguendo lì, piano piano sta cambiando idea su questa cosa, qualcuno magari ne verrà fuori anche appassionato. Ottimo. E due, che la teoria musicale è un super strumento stupendo per scrivere, per creare musica, che non è un strumento freddo, categorico, schematico, no, è proprio una palette, è una palette di colore come ha il pittore, con tutti i suoi colori, più uno conosce meglio questo argomento, più colori ha su questa palette per esprimere quello che vuole esprimere. Giustissimo, vado, una cosa che dico, una cosa che dico sempre io, che si collega a quello che stai dicendo tu, è che se conosci la teoria musicale, per quanto chi non conosce la teoria musicale dice, no, però è uno studio perché sennò poi mi limito, la creatività viene limitata, in realtà se conosci la teoria musicale puoi prenderti la libertà di non seguire le regole, le leggi della teoria dell'armonia, facendolo consapevolmente e quindi facendolo ancora meglio. Il famoso impara l'arte, metti la da parte. Esatto, esatto. Proprio non sono d'accordo, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Bene, allora, troverete tutti questi link ai progetti che nominiamo nel corso della puntata nella descrizione, quindi se sentite qualcosa di interessante date un'occhiata alla descrizione e troverete il link per andare ad approfondire. Quindi tu, praticamente la tua attività professionale si incentra sulla musica, no? Che è il tema principale che tratto su questo format. Qual è la tua concezione del lavoro del musicista? Cioè cosa può fare secondo te un musicista al giorno d'oggi per lavorare con la musica, senza avere i side jobs? Ok, super una domanda, super bruciante, super così, entrata in gamba testa. Esatto. Per riscaldare la conversazione. Perfetto. Allora, sulla panoramica generale, da lontano, può fare tante cose. E questo è sia un problema che un vantaggio, no? Sono racconto. Perché è un vantaggio nella misura in cui ci sono diversi modi in cui uno può trovare la sua nicchia, la sua quadra, no? Sottolineiamo già subito che chi sceglie di fare questa cosa probabilmente non farà una sola roba in musica, no? Magari rivestirà più panni. Esatto. Quindi questo è già un punto di partenza importante da precisare. Appunto, si possono fare tante cose e questo, come dicevamo, è un vantaggio. Lo svantaggio è che, come tutte le cose, soprattutto in questo mondo odierno, no? Quando noi vediamo che tante sono le possibilità, automaticamente siamo disarmati. Perché se ci sono tante possibilità io da dove comincio, no? Io penso che un musicista che sceglie di fare questa cosa, intanto costruisce un percorso molto lungo. Giustissimo. Un percorso molto lungo dove ci sono anche delle fasi in cui uno non ha la risposta. Anche alla domanda, io come faccio? Cioè, nel senso, cosa potrei fare per farcela? Su cosa potrei investire? Sicuramente per me è un punto di partenza, almeno quello che è stato nel mio caso, quello che consiglierei prima di tutto, è fare una bella ricerca dentro se stessi, no? Onesta, sincera. E capire qual è il nostro profilo. Cioè, io che cosa so fare davvero, no? Che cosa non so fare davvero. E magari sarebbe deleterio cercare di perseguire quella strada. Oppure potrebbe non essere semplicemente consono, per me non c'è. O potrebbe non essere il momento, magari una cosa da affrontare in un secondo momento. Potrebbe non essere il momento, assolutamente. E così come potrebbe non essere la cosa giusta anche per la tua salute. Ci sono determinati lavori che magari non sono il tuo, però per un altro sono il suo. Non so, penso per esempio, ci sono persone che si sentono benissimo a fare un milione di serate. Anche in contesti, passatemi il termine, senza giudizio. Umili, feste, eventi privati, matrimoni, sagre, perché no, no. Usiamo anche la parola, non è un'offesa. E ci sono delle persone che ci sguazzano. In questo caso ci sentono a realizzazione massima. Ci sono altre persone che si sentirebbero miserabili. Quindi credo che questo sia importante, questa sorta di soul searching, no? Come dicono in inglese, no? Di cercare nell'animo un po' chi siamo, cosa abbiamo, cosa abbiamo da offrire anche in un certo senso di unico. Certo. Unico non nel senso di fiocco di neve. Scusa. Quindi unico non solo nel senso di fiocco di neve, ma nel senso di quali sono le mie scherze effettivamente. Cioè io che cosa so fare e dopo di che la domanda diventa anche in che modo questa cosa può essere un lavoro. No. E secondo me ci vuole anche la capacità di guardarsi intorno, di essere sempre molto curiosi secondo me. Guardarsi intorno, vedere cosa stanno facendo gli altri per capire ancora una volta quali sono le possibilità. confrontarsi con altre persone che sono su questa strada, soprattutto se sono sia quelle che sono più avanti di te, sia quelle che sono sul tuo livello. Perché hai la possibilità anche magari di sentire una campana, no? Che ti apre, è una possibilità che tu non avevi mai valutato. Assolutamente sì, sono d'accordissimo. Sì, poi tra l'altro pensavo a questa cosa, a volte i musicisti sono un po' schivi, no? Non ti vogliono raccontare fino in fondo come va, cosa stanno facendo. Ed è un peccato questa cosa, perché secondo me crea l'illusione. Crea l'illusione dannosissima, secondo me. Cioè, noi da dentro conosciamo le nostre difficoltà, quanto stiamo facendo fatica a farcela nelle nostre cose e a conquistare le nostre opportunità. Gli altri trattengono questa parte perché hanno paura. No, hanno paura del giudizio, hanno paura che se dicono una cosa sono meno musicisti o che... Se ammettono che non sta andando bene, che non stanno spaccando, che non stanno facendo x milioni di date. Poi la loro carriera va giù a capo. Sì, o che sembrano dei fallimenti. Noi abbiamo il terrore della parola fallimento, di essere in una situazione dove sembriamo dei falliti. Ma perché poi d'altronde negli altri lavori va sempre tutto benissimo, no? E' sempre tutto rose e fiori, no? Quindi deve essere così. No, cioè, come ci sono i momenti di down in tutti, in qualsiasi lavoro, è così anche nel lavoro del musicista, chiaramente. Quindi bisogna essere in grado di affrontarli e anche di parlarne apertamente, così come i tanti altri temi che trattiamo anche in questo format, che tratteremo nel corso della puntata. Bisogna essere anche in grado di parlare proprio in modo obiettivo di quello che succede, di quello che si fa, di quello che si sbaglia, di quello che si può migliorare, di quello che invece già si sa fare bene. Sì, è chiaro. Poi è ovvio che, insomma, non tutti ci possiamo aprire con tutti, no? Quindi ci sta anche un po' di superficialità, evasione in questo senso. Però la cosa che sottolineo è che magari appunto questa tendenza di voler nascondere le mancanze, le debolezze, i momenti più di difficoltà, creano l'illusione che intorno a noi le persone ce la stanno spaccando, ce la stanno facendo di brutto. E noi che invece da dentro ci conosciamo e quindi conosciamo anche le nostre difficoltà, eccetera, ci sentiamo che siamo dei falliti. Cioè io sento che c'è tutto questo materiale emotivo, no? Tutta la difficoltà, intorno a me nessuno dice niente, sembra che vada tutto bene, no? E quindi diventa, ah, quindi sono io il problema. Cioè sono io che non ce la sto facendo, sono io che non so capace, sono io che non ho, non sono portato, non ho la fortuna, qualsiasi cosa, no? E questo è un problema, è un problema secondo me di cui si doveva parlare tanto, insomma. In ogni caso, tornando un pochino al discorso che cosa deve fare un po' il musicista che sceglie di intraprendere questa cosa, come dicevo, curiosità, guardarsi intorno. Mi ha incuriosito, poco tempo fa ho fatto un post che riprendevo un certo video di YouTube dove parlavi di tanti lavori possibili, no? Nella musica è uno che, di cui avevo già sentito parlare e che ho risentito anche il video che mi ha incuriosito, ci sono delle persone che curano l'audio per i podcast. Sì. Ad esempio le persone che fanno un podcast per YouTube, noi pensiamo che basti solo fare rec, magari come che lo guardiamo, no? Rec, caricano, però oggettivamente anche quell'audio... Si può fare, perché si può fare, però farlo, fare un podcast prodotto in modo un pochino migliore richiede anche tutta una serie di altri processi che se si fanno, si sanno fare da soli bene, altrimenti c'è una figura professionale che si occupa solo di guardare, cioè c'è gente che sta costruendo la sua carriera, la sua attività lavorativa solo, appunto, editando, producendo i podcast per conto di aziende, di altri professionisti. Esatto, perché anche il vlogger che lo fa, che magari però lo fa a livello professionista, quindi ha un canale grosso, eccetera, magari non lo sa fare, quindi tu sei una persona che offre un servizio in quel momento, no? Questo è un esempio di... vivo di musica, chi l'avrebbe mai pensato, no? Che vivo magari di lavori tecnici come questi, no? Questo per fare un esempio di quello che dicevo, le possibilità che possono essere tante. Sì, no, ci sono tanti lavori che si possono fare alla fine nell'ambito musicale, cioè ce ne sono così tanti che è brutto sentire dire che con la musica non si può lavorare, soprattutto con le possibilità che abbiamo oggi, grazie a internet, grazie a tutti i vari servizi online che stanno nascendo grazie allo sviluppo della tecnologia. Quindi in realtà bisogna, appunto, mi ricollego a quello che stavi dicendo prima, bisogna fare un'analisi un po' di se stessi, capire che cosa si può proporre, che cosa si può fare, cosa può... cosa tra... tra ciò che sappiamo fare da un punto di vista musicale può diventare un lavoro e trovare il modo e anche il coraggio di proporlo come un lavoro. Sì, sì, magari andiamo anche con qualche esempio in più, perché giustamente la persona che ascolta magari vuole sentire anche qualche discorso più concreto oltre al mio filosofeggiare. Che è interessantissimo. No, volevo... pensavo, no, per esempio, avevamo toccato il discorso di YouTube, ci sono persone che producono musica, per esempio, da vendere, poiché YouTube è molto rigoroso sull'utilizzo della musica, no, c'è tutto il discorso del content IT, dove se tu utilizzi la musica di qualcun altro, rischi di avere una segnalazione sul tuo video e quantomeno può capitare la demonetizzazione, che per una persona che lavora con YouTube e vive dai soldi delle views, cioè vuol dire che non fanno i suoi soldi. Quindi loro, alcuni youtuber hanno il... parliamo di youtuber grossi che lavorano e quindi vivono di questo, hanno bisogno di avere musica senza licenza. E quindi ci sono sia magari produttori di musica freelancer che possono fare questa cosa, oggi ci sono servizi come Artlist, credo si chiamano Artgrid, forse Artlist è quello dei video, Artgrid che è un aggregatore, a questo punto, di musica senza licenza, dove però a loro tu puoi vendere la tua musica, quella è un'altra possibilità. Per fare qualche esempio mio, ovviamente io lavoro come produttore, ok, quindi come compositore, nella misura in cui, da dove io scrivo, delle parti di musica originali, quindi produttore può essere invece, l'artista viene da me con una canzone più o meno strutturata, più o meno articolata, dove intervengo più o meno anche in fase compositiva, no? Esatto, se si tratta magari un po' più di arrangiamento, di abbellimento... Mentre a volte qualcuno arriva con proprio l'idea chitarra e voce, allora gli c'è da scrivere comunque degli altri strumenti, poi arrangiamento, arrangiamento è un lavoro ancora, tu poi magari puoi essere bravo ad arrangiare e non essere un produttore, quindi assolutamente, ipoteticamente potresti, se l'arrangiamento è il tuo, potresti proseguire quello, no? E tutta la sezione dell'insegnamento che dicevi prima, quindi insomma già sono un po' di ambiti diversi, sì, 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 anche nel discorso registrazione, no? Registrare come turnista online, freelance, oggi noi abbiamo la possibilità di farlo da casa, magari se non abbiamo un inserimento particolare, se non conosciamo persone del mezzo, ci sono i discorsi tipo Fiverr, compagnia bella, no? Siti dove vendere questo servizio, ci sono un po' di possibilità. E secondo me mi sento anche di dire che è una cosa che richiede molto tempo e che noi dobbiamo un po' abbandonare l'idea di successo che noi abbiamo nel successo stratosferico, il successo dei grandi numeri, no? I mille e mille views, i milioni di stream, i milioni di euro di vendita, eccetera. Sono d'accordissimo. Dobbiamo un pochino, cioè nel senso, noi per noi è quello che è successo perché è quello che veniamo più esposti, no? A livello comunicativo, sociologico anche. Perché magari anche storicamente il musicista è quello che facevi concerti negli stadi. Sì, esatto, il musicista, ma c'è anche tutto un altro genere di musicista che lavora altrettanto bene, però semplicemente su parametri diversi. Sì, diciamo non c'è ancora magari anche l'idea che uno possa, che un musicista di successo che ce la sta facendo, che sta vivendo di musica, magari una persona come me si alza la mattina, si mette qua, scrive della musica, arrange della musica, compone per qualcuno o per dell'immagine, no? Abbiamo parlato anche di questa cosa. E vive di quello, vive facendo quello, perché la musica è associata al successo, allo stardom, alla celebrità, no? Quindi tutti noi stiamo, tutti noi, insomma, molti di noi entrano in questa gara pensando di rincorrere quella cosa. In realtà, diciamo, farcele ed avere successo non ha a che fare con essere famosi, né fare numeri enormi. D'accordissimo. Anche perché, mi sembra un buon momento per introdurre un'altra cosa importantissima, noi musicisti siamo lavoratori autonomi. Oh, bene, vai. Questo vuol dire che, in quanto lavoratore autonomo, seguiamo tutta una serie di strutture di business di quella persona. Noi dobbiamo procurarci il nostro lavoro. E vorrei sottolineare, perché anche questa volta i musicisti si perdono in questa cosa, di aspettare la chiamata, no? Cioè, io sono un musicista e aspetto di essere chiamato dal progetto X, io sono un bravissimo insegnante e aspetto che mi chiami la scuola. Noi siamo lavoratori autonomi, dobbiamo rincorrere il lavoro, ok? Dobbiamo procacciarci da noi. Non è facile, io non sono... sto diventando più bravo, però all'inizio l'aspetto vendita mi metteva estremamente a disagio. Sì, mi mette tantissimo disagio e difficoltà anche a me. Me lo dico proprio candidamente. All'inizio, ma forse ha a che fare anche con i vissuti personali miei, della mia vita, del rapporto col denaro, delle condizioni economiche che ho vissuto in certi periodi della mia vita. Offrire il mio lavoro è una cosa che mi metteva sempre in ansia perché mi sembrava di elemosinare, di richiedere per favore, scegli me per lavorare, no? Sì. E vi giuro veramente candidamente che mi sentivo così e questa cosa mi creava molto disagio. Però, ancora una volta, proprio perché è un percorso, uno ci sbatte la testa una, dieci, cento volte, io poi sono una persona che studia, che ricerca, quindi vado a cercare chi vende, come fa. Vado a cercare a parlare anche con chi parla ai musicisti di queste cose, no? Oggi su internet ci sono la propria possibilità di trovare anche dei mentori in questa situazione. Assolutamente, sì. E quindi, però, ancora una volta, siamo lavoratori autonomi, dobbiamo cercarci il nostro lavoro, dobbiamo procurarcelo. E quindi è importante avere questa cosa in mente. Però vuol dire anche che se riusciamo a superare la paura, il blocco, la difficoltà, la sfida, possiamo costruire il nostro business, mettiamola così, raccogliendo non un milione di clienti, no? A livello di produzione, arriva un artista, ne arriva un altro, ne arriva un altro ancora, il primo torna per fare un altro brano, no? Magari il secondo parla al suo amico del brano che è fatto, che è felicissimo. Ancora una volta, anche il, diciamo, da cosa nasce cosa, non è così automatico, non è così veloce. Bisogna cercarselo anche. Bisogna cercarselo e ci sono dei momenti terribili, di molta ansia, in cui sembra che i risultati non arrivano. E questo anche è importante dire. Cioè ci sono dei momenti, la voglio ripetere proprio parola per parola, di grande ansia, dove non hai nessuna dimostrazione che ce la stai facendo. È normale, ok? Quindi bisogna entrare nell'ottica che questa cosa succede e che bisogna attraversarla nonostante sia molto difficile. Però, come ti dicevo, anche banalmente, tornando al discorso numeri, no? Cioè se io come produttori costruisco la mia cerca di collaborazioni, non ho bisogno di avere 10.000 follower. Verissimo. No, noi siamo ancora, ancora una volta, perché culturalmente facciamo così, ma perché quando consumiamo contenuti su internet, no? Io seguo il mio artista che ha 100 milioni di follower, 100.000 follower, che può essere posto a 100 milioni di like, queste cose qua. Quindi noi siamo consistentemente esposti e pensiamo che è successo quello. Quindi che io per farcela in musica devo avere 10.000 follower. Sia per far ascoltare la mia musica, sia per essere ingaggiato per qualcosa o per lavorare come produttore. Quando in realtà non è così. Io conosco tantissimi professionisti in vari ambiti della musica, del settore musicale, che lavorano tanto e bene e hanno 300 follower su Instagram, cioè per dire. Quindi sì, quella è davvero l'ultima metrica da guardare. Ma semplicemente perché c'è tanto altro dietro, cioè soprattutto magari loro hanno un altro modo di procacciarsi il lavoro, di trovare il lavoro, di proporsi, che non prende in considerazione i social media, che sono invece un modo, un altro modo per invece proporsi, farsi pubblicità, creare il proprio personal brand. Quindi sì, ci sono tanti approcci diversi che si possono seguire. Bisogna capire qual è quello più adatto a noi e soprattutto avere costanza. Interrompo brutalmente la chiacchierata perché a questo punto dell'intervista la mia videocamera ha gentilmente deciso di prendersi una pausa. Quindi non vedrete più il video, ma l'intervista continua in audio. Grazie. Un'altra cosa che mi piace sempre sottolineare è che non bisogna... Questa è una cosa che ho capito molto tardi. Non bisogna aspettare di saper fare una cosa perfettamente, secondo i nostri criteri, per farla. Nel senso, se io voglio iniziare a insegnare musica, non devo aspettare di conoscere tutto della musica, perché non lo saprò mai, cioè non conoscerò mai tutto della musica. Semplicemente devo capire cosa conosco della musica, a chi possa insegnare e iniziare subito, senza aspettare di dover raggiungere quella perfezione che insegue e che probabilmente non raggiungerò mai. Perché ancora una volta il campo della musica è così vasto, così ampio, che è difficile sapere tutto, conoscere tutto. Come la pensi tu? Vorrei ribattere con un amen fratello. No, quello che hai detto è importantissimo, è una delle lezioni più importanti che ho imparato. Nel senso, questo passa prima, nel mio caso specifico, nel mio rapporto personale con la musica e con l'essere musicista. Nel senso che, a un certo punto, come accennavo, ho cominciato ad avere questa volontà, proprio frizzante, di fare altre cose. Quindi, prendere in mano la tastiera, prendere in mano il basso, cominciare a cantare. E la prima fase era anche resistere. No, vabbè, no, magari non sono portato pure e se in mano non ho il tempo. Oppure, che invece è proprio quello che dici tu, sì, ma vabbè, ma non sono un bassista. Cioè, suono, sì, ok, suono, però dai, vabbè, non lo faccio, perché non sono un bassista. Tanto, il bassista è, inserisci qui definizioni di, no, che tu non sei. Poi prendi Jacob Coglie. Esatto. Grande il tappeto. E quindi, io invece ho capito che è da una liberazione. È veramente una liberazione che tu puoi cominciare a fare le cose prima di essere bravissimo in quelle cose. Questa è una cosa che mi dà moltissima gioia proprio ad oggi, il fatto di non incasellarmi, di potermi consentire di fare queste cose, di andare a una jam session e prendere in mano il basso, anche se tutti mi conoscono più per la chitarra o qualsiasi cosa, insomma. E è una cosa stupenda. E poi, una delle lezioni, o comunque degli aspetti che mi hanno portato a consolidare questa credenza e a metterla un po' al centro delle cose che faccio, è che molto spesso noi diciamo, no, io lo farò quando sarà il momento giusto. Cioè, quando io finalmente mi sentirò bassista, potrò suonare in giro. In me non succederà mai. Il momento giusto non esiste. Esatto. E proprio il concetto è quello. Cioè, io ho visto nella mia esperienza di vita anche altre cose, tutte le cose che io ho rimandato perché aspettavo il momento giusto in cui... Non so, non è mai arrivato il momento giusto in cui... Perché è ovvio, è sempre tra un po'. Non è mai adesso, è sempre tra un po'. Ma perché c'è sempre margine di miglioramento. Quindi è normale che noi magari ci poniamo un obiettivo, raggiungiamo quell'obiettivo, però nel frattempo sono successe altre cose, abbiamo scoperto che c'è dell'altro, e allora poi il nostro obiettivo si è alzato. Non è più quello che abbiamo raggiunto, ma... Quindi è tutto un circolo vizioso che si alimenta... Si, quindi se invece noi scegliamo di astenerci da questa corsa folle che non finisce e di veramente prendere un altro sentiero, caspita che bello, ci sono veramente delle emozioni bellissime da trovare e da scoprire. E un'altra cosa che c'entra moltissimo con quello che hai detto, anzi riprende proprio il tuo discorso, no, per esempio io sarò insegnante o mi sentirò insegnante, mi sentirò autorevole quando saprò tutti questi x argomenti che io oggi non so, quindi ad oggi non... Una cosa che ho sentito dire recentemente, che anche quella mi ha lasciato il segno, è che un mentore è una persona che ha camminato parte del percorso che tu vuoi fare. Giusto. E quindi questo che cosa significa? Significa che tu puoi essere mentore di qualcuno pur non avendo fatto... non essendo salito sull'Everest, perché tu puoi essere mentore di qualcuno che vuole camminare i passi che tu hai già fatto. E se questo vuol dire insegnare ai principianti, no, a fare delle canzoni chitarre voce di Bob Dylan, e tu hai già fatto quel cammino, sei un mentore. Ok? Quindi quando uno chiede che lavoro potrei fare, potrebbe essere che tu sia un mentore di qualcosa per qualcuno. Devi solo forse abbandonare questa visione che il mentore è il genio, il mentore è il massimo esempio. Il saggio che sa tutto. Sì, è colui che è talmente outstanding, così talmente straordinario, che allora lui lo possiamo chiamare un mentore. No, tu puoi essere mentore per gli altri, per le persone che hanno bisogno di quello che tu già hai, e che hanno bisogno di camminare la strada che tu hai camminato, ma non sanno come farlo. E questa è una risposta al che cosa posso fare per lavorare con la musica. Bello, bello. Stanno uscendo dei consigli, delle considerazioni veramente molto belle, molto utili soprattutto. Vorrei toccare ancora un altro paio di punti con te, se non hai altro da aggiungere su questo tema. Uno è, secondo te, cosa deve assolutamente saper fare un musicista al giorno d'oggi? Che è una domanda un po' così, però voglio vedere com'è. Il senso lato. Il senso lato. Per lavorare nel senso, in un ambito musicale. Quali sono quelle conoscenze, quelle capacità che bisogna avere per forza per riuscire a lavorare al giorno d'oggi? Allora, parlerò sia un po' di cose pratiche sia un po' di mindset. Benissimo, sì. La prima cosa e la più importante, secondo me, ti deve piacere il processo. Ti deve piacere il processo di costruire queste opportunità molto lentamente, di gestire anche le difficoltà emotive e psicologiche che vengono, perché ti piace il processo, perché è questo quello che vuoi fare, perché questa è la tua vita, l'hai scelta, ed è quello che vuoi realizzare nonostante così tanta fatica, nonostante sembra di essere in una tempesta costante che non passa. Se ti piace il processo, vai avanti. Ed è quello che ti dà forza per attraversare anche i momenti più difficili del processo. Anche un'altra cosa, proprio perché io ricerco tanto, io parlo anche di cose che ho letto di citazioni, perché per me è stato importante andare a cercare modi per gestire questo percorso. Allora, un'altra delle cose che ho letto è che questa strada non è uno sprint di 100 metri, ma è una maratona. È uno sport molto diverso, uno da tutto e arriva. La maratona no. Mattoncino dopo mattoncino. La maratona tu corri a quella velocità che dici, vabbè, non sta neanche correndo veloce. E no, per correre 40 chilometri. E quello che fa la maratona non può, diciamo, pensare caspita, non sono ancora arrivato al decimo chilometro. Perché sennò non ci arriva. Non arriva alla fine poi. Ecco, il processo della musica è lo stesso. Quindi prima di tutto questo mindset. Che ti piace il processo, che ti abitui anche alle frustrazioni un pochino. Non dico farteli andare bene, però parlo anche di cose molto piccole. Hai fatto un video bellissimo che ti ho investito tanto. Dici, cazzo, questo piacerà un sacco. E lo carichi e fai gli stessi like soliti. Magari nessuno lo commenta. Questa è una cagata, scusami. Voglio dire, cazzata. Poi ho censurato e ho finito cagata. Questa è una cavolata, però è una frustrazione. Cioè io ci lavoro delle ore. Fa parte anche della nostra vita che magari uno fa dice stai dietro ai video di Instagram quanto sei stupido. No, è una parte del lavoro, del gioco. E bisogna essere preparati a gestire questa cosa, la frustrazione. Io mi ricordo, voglio citare queste cose, che sono anche esempi sciocchi ma rappresentativi. Quando ho cominciato a lavorare molto con i social media più o meno un paio di anni fa, ho studiato tutte le cose a livello di comunicazione, a livello di come volevo pormi, del tipo di contenuti. E cercavo di darci dentro, eccetera. C'è stato un periodo, secondo me, l'anno scorso in cui facevo delle storie belle, non arrivava un cazzo di commento. Ma proprio neanche io mi dicevo ma com'è possibile? Ma questa era proprio bella. Cioè, e ci ridai dentro. E a un certo punto ho continuato a fare questa cosa e siccome mi sono rassegnato rispetto al fatto che la cosa non veniva apprezzata, riuscivo a farla senza stare male. Perché, sembra assurdo da dire, però essendomi rassegnato non aveva più lo stesso impatto emotivo che quella cosa non avesse un riscontro. E quindi riuscivo a portarla avanti meglio. Perché è stato assurdo, mi ricordo a un certo punto ho fatto una cosa che siccome era talmente bella e anche quella non aveva funzionato che mi sono detto vabbè, non c'è una spiegazione. Cioè, questa per me era proprio bella. Cioè, nel senso, non è perché la prima fase magari dici ah, forse ho sbagliato qualcosa, devo fare in cosa, devo fare così. A un certo punto io mi sono detto no, cioè, è giusto. Io mi piace un sacco quello che ho fatto. Oh, pazienza. Non andare a dire. Non fanno. Magari è giusto per te, è bello per te, non è bello per chi ti segue, perché magari segue dei criteri diversi o magari semplicemente un esperimento che hai fatto e è andato male. Sì, ma poi mi ha consentito anche, perché magari il rischio a cui sto alludendo è caspita, non ho un riscontro. Questa è una cosa che possiamo poi generalizzare, no? Non ho un riscontro, non mi arriva l'opportunità, non mi arriva la chiamata, no? E quindi il processo è fatto di molti momenti di frustrazione rispetto ai desideri, no? Però se ami il processo, ci stai dentro con quella difficoltà, la metabolizzi piano piano, la lasci andare e vai al prossimo. In mezzo poi ci sono anche delle soddisfazioni, è chiaro, a volte anche molto grandi. Le mie stanno arrivando adesso dopo due anni di lavoro. Però stanno arrivando. E guarda, statisticamente, scusa se andrò una macchina così dire, statisticamente comunque pare sia il tempo che ci vuole per vedere dei risultati. Ma caspita, sì. Perché sono, guarda, non sei la prima persona a cui sento dire ci sono voluti due anni. Cioè, proprio due anni, non ci sono voluti degli anni. Evidentemente perché c'è bisogno di, è come quelli che ti dicono, sì, ok, vuoi far crescere il tuo canale su YouTube, devi fare almeno 100 video, perché in 100 video impari a fare i video, dopodiché parte effettivamente il tuo canale. Quindi c'è anche questo aspetto un po' più matematico, diciamo, uno statistico. Sì, ma cavolo, tornando al discorso, siamo lavoratori autonomi, se chiunque di voi, o tu, ha magari un parente che ha aperto una propria attività, lo sa che magari il primo anno va in perdita? No. Mette in conto, certo. E quindi, non so, il mio papà Fett parrucchiere a un certo punto nel 2012 ha aperto la sua attività, all'inizio andava in perdita. È un investimento. Tu fai l'investimento e continui a darti da fare, perché a un certo punto quel rosso cresce e vai in positivo. Inizia a diventare vero, sì. Ed è così anche nella musica. Magari tu, nel momento in cui scegli di fare questa cosa part-time, full-time, scusate, scegli di fare questa cosa full-time, ti dai da fare, hai studiato il mercato, hai ragionato su quello che potevi fare, ti stai buttando, ci stai mettendo tutta, ti stai anche distinguendo, magari, nel modo in cui stai facendo le cose, però non arriva, comunque è quel tempo in cui la tua attività è ancora in rosso. E va bene. La paura anche lì è da una cosa su cui voglio lanciare una luce, la paura di nuovo, non ce la sto facendo. No, io non ce la sto facendo. Forse non ce la posso fare. Invece può essere che sei solo in quella fase lì. Esatto, esatto. Giusto. Altre cose che secondo me sono importanti per il musicista che vuole vivere di musica. Curate la vostra salute mentale. Lo dico col sorriso, ma è la verità. No, è verissimo. Nel senso che, come vi dicevo, è un percorso fatto di molta ansia, molta angoscia e di dover gestire molte emozioni, molti alti e bassi e non è facile. Non è facile. Io nel mio caso specifico non ho problemi a dire che faccio psicoterapia. questo più per altri vissuti che sono successi nella mia vita, ma inevitabilmente la psicoterapia tocca anche questa ricerca. Perché per me è una ricerca di una cosa che è centrale nella mia vita. Quindi si parla anche di quello. Per me è importante. Potrebbe essere utile anche per voi. Come può essere utile anche qua esempio personale a livello spirituale. Poi, insomma, mi sono avvicinato al discorso meditazione, mi sono avvicinato al discorso mindfulness che è una pratica di consapevolezza e può essere, possono essere altre cose. Può essere la filosofia. C'è un pensatore che si chiama Lende Botton che mi piace molto che ha scritto un libro che si chiama Le consolazioni della filosofia e racconta di come i filosofi hanno affrontato dei problemi quotidiani. Cioè, di essere non famosi, di non aver successo nel lavoro, di non aver successo nell'amore, eccetera. Quindi a volte anche magari la filosofia può essere, questo per dire che in qualche modo ci sono delle cose che possono essere nutrienti per il vostro benessere mentale. È importante che ne abbiate cura perché è un percorso che suscita molte cose su quel piano e questa è una banalità, però non c'è nulla di male a voler curare la propria salute. assolutamente no. Purtroppo siamo ancora legati a questo questo tabù della vedi, della psicoterapia, della terapia in generale quanto in realtà è semplicemente una cosa che fa parte di un percorso. Ti rompi un ginocchio vai dal medico sei in un momento un periodo un po' giù nella tua vita vedo dal terapeuta. assolutamente sì questo è molto importante quello che hai detto e quindi sì curare la salute la propria salute mentale nei modi in cui uno trova con anche un'apertura e curiosità di valutare quali sono le cose che possono essere utili secondo me è molto molto importante. Cos'altro? Beh insomma sono già dei punti che abbiamo fatto. Chiuderei con un'ultima un'ultima domanda cosa sta cambiando cioè da quello che vedi nella nella professione nelle professioni legate alla musica come come vedi la professione del musicista in futuro la risposta può anche semplicemente non sta essere non sta cambiando niente secondo me resta tutto uguale adesso pensavo più a non ne ho idea no in realtà diciamo è una domanda molto importante forse per la quale forse non mi sento così tanto autorevole per rispondere però quello che io posso dire dalle cose che tocco con mano e che vedo e che ricerco costantemente nel mio lavoro proprio perché un'altra cosa che è importante che ho citato lateralmente in più modi durante la conversazione è questa curiosità essere sempre aperti a guardarsi intorno a vedere cosa stanno facendo le persone perché possono essere spunti per capire cosa vuoi fare tu e questo rientra anche nel discorso in che modo lavoro con la musica mi guardo in tour e vedo come stanno lavorando le altre persone quali sono tutte le possibilità anche lì fuori dalla musica perché io molti spunti li prendo da persone che non lavorano principalmente brutto tantissimo poi a livello di comunicazione tantissimo perché se tu senti parlare delle persone che sono esperte di comunicazione che non parlano di musica poi ti dà una marcia in più su come comunicare te sia con la tua musica in senso pratico sia sul raccontare la tua musica che è importantissimo se tu lavori sui social media se tu stai cercando una presenza su internet eccetera e tornando al discorso dell'evoluzione quello che io posso dire è che indubbialmente le cose stanno cambiando sempre no? un esempio abbastanza eclatante anni 90 cd primi anni 2000 pirateria giusto quasi non exist cioè a livello musicale non è più una questione così è e metà degli anni 10 iTunes ok tutti compravano la musica lì e anni 10 inoltrati Spotify ok quindi e poi non so 2020 TikTok cioè questa è solo una macro panoramica di adesso social media e servizi di streaming per dire quante cose possono cambiare non so c'era MySpace un tempo poi c'è Facebook adesso c'è TikTok domani comparirà un'altra roba e questa è una condizione evidentemente intrinseca del mezzo sapere questa cosa è importante perché vuol dire che se io voglio navigare in questo panoramico devo essere pronto a sapere di questa cosa che le cose stanno così e fare del mio meglio per starci dietro per seguire per ancora una volta con curiosità guardarsi attorno non vuol dire essere esperti di tutto che sia chiaro mi piacciono degli assolitismi però sicuramente una persona che si incuriosisce si guarda intorno e cerca capisce delle cose e si sa muovere anche di più in questo mezzo se appunto se lo studia un pochino e questo era un piccolo esempio di come le cose cambiano un altro modo in cui le cose sono cambiate tantissimo è questo giusto vero verissimo nel senso che un po' di tempo fa qualche decennio fa scusate per chi non sta guardando i video sta ascoltando il podcast William stava indicando la sua postazione a studio verissimo esatto faccio la descrizione dove ci sono altoparlanti tastiere il programma con cui registro le cose eccetera eccetera questo è un cambiamento rivoluzionario un tot di anni fa un paio di decenni almeno il musicista che voleva incidere il suo album doveva rivolgersi a un'etichetta l'etichetta perché? perché l'etichetta aveva lo studio l'unica diciamo entità che poteva avere i soldi per permettersi gli equipaggiamenti estremamente costosi di uno studio erano le etichette l'unica entità che poteva stampare dischi era l'etichetta l'unica entità che poteva distribuire musica era l'etichetta l'unico modo per arrivare ad un pubblico enorme era la radio la tv i media classici giusto ed era così fino a vent'anni fa non stiamo parlando di 1920 oggi tu puoi registrare produrre la tua musica in casa la puoi caricare su delle piattaforme con cui raggiungere tutti ad esempio Spotify autonomamente a quattro soldi tramite distributori come DistroKid eccetera veramente con poca spesa la tua musica può arrivare a delle persone che stanno dall'altra parte del mondo tranquillamente che adesso magari diamo per scontate queste cose ma non lo sono assolutamente no sono cambiate a un certo punto e se tu avevi una band vent'anni fa e volevi farti un fan in Giappone dovevi andare in Giappone dovevi andare in Giappone oppure la tua etichetta doveva lavorare bene per portare il tuo prodotto in Giappone e oggi tu puoi farti un fan in Giappone e parlare con loro in tempo reale c'è nel senso questo per dire di quanto le cose cambiano ripeto dieci anni chissà vent'anni chissà fra vent'anni quindi pur non sapendo dire qual è la prossima evoluzione io quello che posso dire con certezza è che ci sarà e ce ne saranno diverse e il nostro compito è cercare di avere l'orecchio teso il più possibile su questa cosa bene grazie grazie mille William è stata una chiacchierata dire interessante secondo me è poco perché abbiamo toccato tanti aspetti che si danno per scontato in alcuni casi o che non si considerano proprio in altri casi quindi grazie grazie di cuore grazie a te e dici a chi sta ascoltando a chi sta guardando il video dove possiamo trovarti in primi su Instagram questo perché è un po' la piattaforma non solo dove metto a mo' di portfolio tutte le cose che faccio ma anche un po' il mio canale televisivo dove raccontare che cosa sto facendo che cosa sto studiando che brani sto producendo che cosa sto ascoltando quindi chi vuole entrare un pochino nel mio universo sicuramente Instagram è il posto ideale come progetti live in questo momento collaboro con un progetto che si chiama Partico insieme ad un cantante americano Colin che tu vuoi conosciuto abbiamo questo progetto di musica originale potremmo chiamarlo crossover no però crossover in una versione black music nel senso che mischiamo i colori del funk con quelli del sol con quelli dell'hip hop con un pizzico di attitudine rock che non guasta e questo è un progetto che stiamo annunciando da poco tempo anche noi siamo anche in quel caso siamo sui social media su Spotify ci sono un paio di pezzi presto ce ne saranno degli altri se siete a Bologna nei prossimi due mesi abbiamo almeno due date che verranno annunciate presto quindi se volete anche venire a sentire qualcosa siete benvenuti perfetto perfetto trovate quindi tutti i link nella descrizione grazie ancora William grazie per aver ascoltato l'episodio grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti